Bentornati su Resta quel che resta, io sono Nino, oggi vi parlo del film La stranezza, film di Roberto Andò con protagonisti Tony Servillo e Ficarra e Picone. Questo film è uscito al cinema il 27 ottobre 2022, ma lo trovate in questo momento sul catalogo di Amazon Prime Video, quindi se siete abbonati Prime di Amazon lo trovate, senza costi aggiuntivi direttamente sulla piattaforma. Bene così, bene così perché io non ero riuscito a vederlo in sala qualche mese fa, aspettavo appunto di poterlo recuperare attraverso le varie piattaforme e tra l'altro su questa cosa insomma c'è da discutere, forse già ve l'ho detto, vorrei fare un video su questo tema, il discorso cinema e piattaforme, come in qualche modo lavorano tra di loro, come potrebbe andare in futuro la distribuzione dei film, è un argomento che mi interessa e che mi tocca particolarmente e che quindi credo che poi prima o poi condividerò con voi. Però non è questo il caso perché in questo video parliamo un pochino di questo film. Prima di cominciare mi raccomando il like, qui sotto polliceone verso l'alto, non vi costa nulla, date questa tappatina e mi date una grossa mano perché quando lasciate like mandate un feedback a questa piattaforma, quindi a YouTube e gli dite vedi che questo qui pare che faccia dei buoni contenuti, quindi proponilo un po' in giro, così dovrebbe funzionare, noi ci crediamo e quindi vi invito a lasciare like. Se non siete ancora iscritti qui sotto c'è sempre un altro tastino, c'è scritto iscriviti, ci cliccate sopra, nulla di più facile, così rimanete sempre aggiornati sulle pubblicazioni. La stranezza regia di Roberto Andò, Tony Servillo, Ficarre e Picone. Roberto Andò torna a lavorare con Tony Servillo, lo aveva già diretto nel 2013 con il film Viva la Libertà, altro bellissimo film tra l'altro, e nel 2016 con Le Confessioni. Torna a lavorare insieme e Roberto Andò unisce queste due entità, fatemi dire così, due entità anche se parliamo di tre persone, quindi parliamo di un trio, però da un lato Tony Servillo, dall'altro la singola entità che poi si divide in due, Ficarre e Picone. Dico così, li racchiudo come se stessi parlando di una sola persona, perché sicuramente credo di non sbagliare se dico che nel 99% dei casi, tra teatro, cinema, tv, tutto quello che hanno fatto e fanno Ficarre e Picone, lo hanno fatto insieme, quindi proprio come coppia comica, coppia artistica. Quindi li unisce e mi ricordo che questa cosa faceva strano, ecco, la prima stranezza di questa cosa era proprio vedere queste due entità insieme, perché comunque siamo abituati a vederli in contesti diversi. Anche se, attenzione, perché Tony Servillo ha fatto anche film magari che possiamo includere nel contesto comico, mi viene da pensare, per esempio, Lasciati andare, che è un film molto carino con Tony Servillo, e dall'altro lato Ficarre e Picone hanno partecipato anche a delle pellicole non per forza, diciamo, solo comiche. In questo caso penso, per esempio, a Baharia di Giuseppe Tornatore del 2009. Questo è un film, tra l'altro, che assomiglia molto ad alcuni film di Tornatore, come può essere Baharia, come può essere il nuovo cinema Paradiso, assomiglia un po' a un film, che ne so io, degli anni Ottanta, dei Fratelli Taviani, è ambientato negli anni venti, nel 1920, insomma, siamo lì più o meno, in Sicilia. Tony Servillo è Luigi Pirandello. Ecco, Tony Servillo è Luigi Pirandello. Tony Servillo ancora una volta va in scena interpretando un personaggio realmente esistito. Era già successo con Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi, entrambi diretti da... non loro due, Servillo nei panni di questi due, diretto da Paolo Sorrentino, quindi Il Divo e Loro. È successo con Quirido io di Mario Martone, dove Tony Servillo interpretava Edoardo Scarpetta, e quindi Servillo comunque prova gusto a mettersi alla prova con personaggi realmente esistiti. Devo dire che in questo film, a differenza magari, ecco, di quando ha fatto Berlusconi, quando ha fatto ancora di più Andreotti, non ha avuto bisogno di particolari accorgimenti, ecco, nel trucco, roba del genere, perché già avere i capelli corti, bianchi, e farsi crescere il pizzetto lo ha trasformato di fatto in Luigi Pirandello, una somiglianza straordinaria. Che cosa ci racconta, insomma, questo film? Si immagina, diciamo così, si ipotizza, Roberto Andò, si diverte a ipotizzare, un Luigi Pirandello che nel 1920 circa torna in Sicilia, torna in Sicilia per gli 80 anni di Giovanni Verga, per andare a fare gli auguri a Giovanni Verga, tra l'altro interpretato in questo film da Renato Carpentieri, altro bravissimo attore, e però quando torna in Sicilia, perché lui vive in quel momento a Roma, è già un artista, un autore assolutamente affermatissimo, qualche anno dopo, credo una quindicina d'anni dopo, riceverà anche il premio Nobel, quando appunto torna in Sicilia apprende della morte della sua balia, della balia che lo aveva cresciuto da piccolo, e decide di organizzare lui, finanziare lui, un degno funerale per questa balia, che quindi è stata una figura molto importante per lui. Si affida, insomma, a questa agenzia di pompe funebri, dove ci sono questi due becchini, appunto, Sebastiano Vella e Onofrio Principato, interpretati da Ficarra e Picone. Sono due becchini, svolgono, insomma, il loro lavoro normalmente, ma hanno la passione per il teatro, passione per il teatro che poi, appunto, trova sfogo, proprio nel teatro del paese, dove con questa piccola compagnia amatoriale, fatta, insomma, dagli amici, dal resto della popolazione locale, insomma, mettono in scena di solito commedie, quindi roba di stampo comico, ma stanno in quei giorni provando per mettere in scena il loro primo dramma. Soprattutto Onofrio, Onofrio Principato, interpretato da Valentino Picone, sogna di poter andare in scena anche nel drammatico, nel dramma, e quindi stanno, insomma, lavorando a questa cosa. Loro non riconoscono Luigi Pirandello, questo è importante, perché Luigi Pirandello, dall'altro due che fanno teatro a livello amatoriale, quindi il loro magari mito, eccetera. No, in realtà no, perché loro non lo riconoscono. Vi ricordo, siamo negli anni venti del secolo scorso, quindi non è che c'erano, ecco, la tv, i social addirittura, insomma, come adesso, quindi magari l'immagine stessa di Pirandello era riservata ai giornali che ne parlavano, eccetera. Però comunque i due non riconoscono Luigi Pirandello, lo trattano come un normale cliente, ci sono anche delle problematiche, perché ci sono stati dei magheggi all'interno del cimitero con una nicchia che in realtà è stata venduta a più persone, però comunque riescono a risolvergli questo problema, a questo distinto signore siciliano, ma che abita a Roma, ma che loro non sanno essere Luigi Pirandello, e in un momento di attesa, mentre aspettano, insomma, durante lo svolgimento del film, eccetera, gli dicono anche di essere appunto degli aspiranti attori di teatro, lui non dice loro di essere Luigi Pirandello, dice di essere semplicemente un professore, anzi un professore nemmeno appassionato tanto di teatro, non amante del teatro, e quindi riceve da loro questa locandina, questo invito magari a passare a trovarli. Successivamente, loro scopriranno che si tratta di Luigi Pirandello, sono in fermento perché sperano che arrivi, loro mettono in scena il loro dramma, in realtà poi, insomma, succedono un po' di casini durante la rappresentazione, con dei litigi che vengono messi in scena, diciamo, no in scena, scusate, che avvengono all'interno del teatro, anche con parte del pubblico, perché c'è uno spettatore, poi insomma lo vedrete nel film, che si ribella sentendosi preso in giro dalla commedia, eccetera, insomma, si mescola pubblico e i poveri attori sul palcoscenico. A questa scena assiste Luigi Pirandello da un posto un po' più appartato e, diciamo, questo film ci fa capire che da lì magari lui trae la definitiva ispirazione per concludere la sua grande opera, Sei personaggi in cerca d'autore, perché il Pirandello che troviamo in questo film è un Pirandello con una grande crisi creativa, che sta attraversando una grande crisi creativa. Quindi, insomma, vedere quella cosa lì gli dà la definitiva ispirazione per portare in scena sei personaggi in cerca d'autore e, tra l'altro, nel film poi ci sarà anche la scena proprio di quando quest'opera di Pirandello viene presentata in teatro a Roma e ci sono anche i battibecchi tra il pubblico, tra gli appassionati di Pirandello, quelli che invece vanno contro l'autore siciliano perché si sentono presi in giro perché non accettano questa nuova forma di teatro. Questo è realmente accaduto nel 1921, se non erro, alla prima di sei personaggi in cerca d'autore. Da questo punto di vista una scena che abbiamo già visto proprio in Quirido io, quando il pubblico si ribella a una parte del pubblico che appositamente era lì per quello a Eduardo Scarpetta per la parodia di D'Annunzio, però queste poi sono cose realmente accadute, ecco, sia quella di Scarpetta sia questa di Pirandello. E poi basta, non vi dico più nulla perché già vi ho detto troppo, però ci sono anche tante altre sfumature da guardare in questo film. Non vi dico troppo perché questo è un film che poi lascia un pochino di dubbio, lascia lo spettatore a pensare nel finale del film soprattutto e quindi non voglio andare oltre. Comunque, allora, bravi Ficarre e Picone. Parto da loro perché, insomma, dovrei partire da Tony Servillo, ma ecco, in ordine di importanza ribaltiamo in questo caso perché poi dico anche su Tony, però premiamo Ficarre e Picone. Io prima ho citato Baria di Tornatore. Ecco, questo per dire che poi Ficarre e Picone non sono solo, diciamo, comici, ma solo, tra virgolette, perché non è che essere comico e farlo bene, il comico è facile e loro secondo me lo fanno molto bene. Però, già in Baria, per esempio, avevano recitato in un film non prettamente comico. Tra l'altro in Baria, se non ricordo male, perché non lo vedo da tanto tempo, loro avevano anche due ruoli non da poco, perché erano tipo Picone era il padre della ragazza, della protagonista del film e Ficarra era il fratello invece del protagonista. Quindi comunque due ruoli importanti e due ruoli che sì, avevano la sfumatura comica, però poi era un film serio. Ecco, in questo caso forse non è nemmeno giusto dire Ficarre e Picone in un film drammatico, in un film serio, molto semplicemente serio, dove poi mettono in scena se stessi. Se stessi, nel senso che due tipi di personaggi che abbiamo anche già visto in alcuni film stessi di Ficarre e Picone. Quindi gli viene, secondo me, completamente naturale e credo che per loro sia stata un'esperienza bella, bellissima, anche perché non è da poco sicuramente recitare insieme a un mostro come Tony Servillo. Un Tony Servillo elegante, un Tony Servillo garbato, un Tony Servillo riflessivo e tutto questo che ho detto è applicabile a quel Luigi Pirandello di Tony Servillo. Un Pirandello che non parla siciliano, nel senso che sì, ha un po' magari la cadenza, ma andò, decide comunque di non calcare la mano sul siciliano di Pirandello, in questo caso, con Tony Servillo, a differenza di quello che era accaduto nel 2012, io guardo davanti a me perché ovviamente ho preso un po' di appunti per non dimenticare nulla, perché nel 2012 in un film che si chiama È stato il figlio, diretto da Daniele Cipri, potete assistere a un Tony Servillo proprio che è un siciliano, un siciliano con tanto proprio di dialetto. Quello è un film molto carino, anzi bello, tratto da un libro, ho letto sia il libro che ho visto il film. Io poi amo fare questo, quando faccio le recensioni o parlo di un film inevitabilmente vado un attimino a citarne altri, però io credo che questa tutto sommato possa essere anche una pratica piacevole perché magari ecco potete avere altri spunti per recuperare dei film che non avete visto. Comunque in quel film che si chiama È stato il figlio Tony Servillo parlava siciliano, in questo qui no. Comunque ripeto mi è piaciuto come film, cito anche ecco questo pure lo avevo segnato appunto la partecipazione di Renato Carpentieri ma anche nella parte finale del film di Luigi Locascio e Fausto Russo Alesi due bravissimi attori siciliani per un film ripeto che mi è piaciuto mi è piaciuto anche mi è piaciuta tanto anche la contrapposizione tra quelle che ho detto prima le due entità quella un po' più frenetica un po' più popolare diciamo così di Figaro e Picone è quella un attimino più austera un attimino più riflessiva anche perché si parla in questo film di un pirandello ripeto in crisi creativa quindi anche abbastanza turbato mi piace questo contrasto tra le due cose vi dico la verità secondo me questo film poteva durare altre due tre ore cioè secondo me margine ce n'era per magari raccontare ancora di più e anzi avrei voluto vedere più dialogo tra Figaro e Picone e Tony Servillo ci sono c'è ovviamente questo però forse un po' meno di quello che mi aspettavo e quindi avrei preferito anche questa cosa bene così prima ho citato ho detto questo poteva essere un film magari degli anni 80 con con diretto dai fratelli Taviani ecco dico una cosa che vabbè Figaro e Picone non ascolteranno mai questo video ma secondo me potrebbe inorgoglierli quello che quello che dico in un ipotetico la stranezza diretto dai Taviani negli anni 80 non so chi avrebbe potuto fare Luigi Pirandello però la parte loro l'avrebbero l'avrebbero fatta sicuramente Franco e Ciccio che sono stati diretti dai Taviani in Caos tra l'altro quindi io penso che questo sia un complimento eh considerando appunto chi sono stati Franco Franchi e Ciccio in grassia mi trovo in Figaro e Picone in alcuni film ho detto Baria ma anche in questo una sorta di quella coppia però nell'era moderna e poi basta bella a me poi i film ambientati vi dico nella Sicilia del passato mi piacciono sempre io non sono siciliano sono napoletano però credo che il popolo nel senso vero della parola napoletano e quello siciliano soprattutto se andiamo indietro nel tempo siano straordinariamente adatti ad essere raccontati al cinema e a generare delle delle pellicole di grande risalto e ho citato un po' di roba e quindi Caos dei Daviani Nuovo Cinema Paradiso la stessa Baria e qui è la Sicilia è la Sicilia del popolo e anche in questo film quindi secondo me andò a realizzare una vera chicca mi invito a vederlo e scrivetemi poi qui sotto le vostre considerazioni ci vediamo nei prossimi video ciao ciao